buongiorno a tutti amici tec differente siamo qui con il nostro unboxing di un accessorio che ci appena arrivato cortesemente fornito ci da fresh and rebel è una power bank da 5200 miliampere ora andiamo a vedere la confezione molto bella devo dire e come si apre anche molto particolare bisogna spingere in fuori la confezione andiamo ad aprire vediamo subito il contenuto qui troviamo subito la nostra power bank molto capiente eccola qui è tutta nera con gli ingressi due ingressi usb uno micro usb per i deva eventualmente la ricarica poi abbiamo anche tasto accensione spegnimento questi sono i led per la ricarica devo dire che è molto leggera portatilissima il marchio fresh and label non so se si vede in controluce qui il marchio fresh and label andiamo a vedere il resto del contenuto nella sua scatola ok non c'è più nulla abbiamo il nostro classico manuale di istruzioni che ci spiega un attimino velocemente come come composto e abbiamo il nostro cavo usb micro usb per la ricarica appunto della power bank da 5200 miliampere ora lo ricordo bene direi che per questo unboxing è tutto un saluto alla prossima ciao